Musica Andiamo a parlare di arte e cultura ma ci spostiamo a Bruxelles dove è stato presentato lo spoleto Meeting Art in studio con noi c'è Simone Fagioli che è filosofo e storico dell'arte, buonasera, bentrovato Buonasera a tutti e a tutti gli aspettatori Ci spiega innanzitutto di che progetto si tratta? Sì, ogni anno l'appuntamento di Bruxelles è una tappa fissa del Menotti Art Festival Quest'anno a Bruxelles viene presentato il manifesto dell'edizione 2020 del Menotti Art Festival Quest'anno abbiamo l'onore di avere John Johnson Gert che è un importante pittore fiammingo che ha realizzato il manifesto del Menotti Art Festival e appunto è un manifesto di pittura astratta e oltre a questo sempre a Bruxelles presso la sede della regione Abruzzo del Parlamento Europeo c'è attualmente e durerà fino al 30 marzo 2020 una collettiva di 12 artisti internazionali tra cui c'è anche appunto un artista americano e lo stesso artista fiammingo e voglio ricordare appunto che questo progetto artistico deriva da un'idea del suo fondatore del padrone, il professor Luca Filipponi e che la mostra e l'intera direzione artistica è a cura della dottoressa Paola Bialetti intanto stiamo vedendo alcune immagini che si riferiscono a una vostra iniziativa passata la premiazione di Giovanni Allevi in cantiere ci sono altri progetti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti